Grazie a tutti. Oggi siamo qui a Centicolella presso la palestra Fitness del Cus a svolgere un corso a scelta per gli studenti di Dynamic Postural e di Zumba Fitness. E' per gli studenti un'esperienza motoria alternativa, vista e considerate le discipline classiche che noi comunque svolgiamo a livello curriculare nei nostri corsi. Ha avuto una risposta positivissima, anzi purtroppo alcuni studenti non hanno potuto partecipare per la grossa numerosità e ci riproponiamo comunque di ripeterci magari nella prossima stagione. I corsi a scelta sono un'offerta formativa in più che l'università propone per allargare di più il ventaglio di conoscenze e di proposte che il mondo comunque sia scientifico che tecnico pratico delle attività motorie dello sport propone. Le aspettative degli studenti sono sempre altissime, richiedono tanto questi corsi pratici e per fortuna l'ospitalità nelle palestre del Cus è altissima per cui possiamo suffruire di queste strutture validissime. E pertanto anche grazie alla volontà dei colleghi che si offrono per venire a fare questi corsi a titolo completamente gratuito per poter proprio divulgare, per poter come dire anche consolidare le conoscenze dei nostri studenti. Oggi abbiamo per l'appunto ospiti per il Master Training di Group Cycling Gaspare Firmani che si occupa del postural dynamic e l'istruttore nonché anche ballerino artistico Andrea Falone che vengono ambedue da Pescara e con molta disponibilità si sono offerti di tenere i corsi che appunto avete visto nei video e vedrete nel video. Grazie a tutti. Grazie a tutti.